Detto Fatto, il corso di religione cattolica per la scuola primaria, edito da San Paolo e la Spiga Edizioni. Un progetto unico che affianca il detto al Fatto, con testo ed eserciziario integrati. Cinque volumi, nei quali per ogni anno si trovano una sezione sui prerequisiti, la pagina chiara e la tappa in mappa, con font ad alta leggibilità, diversi compiti di realtà, pagine di educazione civica, di coding e di verifica. Grande spazio all'arte con collegamenti per il CLIL. Tantissima operatività con la Bibbia da colorare e il volume dedicato ai laboratori. All'interno ti aspetta l'alfabeto dell'ora di religione per colorare, fare coding o scoprire il mondo dell'arte. Un lapbook amplia le conoscenze dei contenuti di ogni classe, tante attività anche sugli obiettivi dell'Agenda 2030 con espansioni in guida. Detto Fatto, oltre alla versione digitale, ha anche ulteriori espansioni online come 60 storie dell'Antico e Nuovo Testamento, la Bibbia interattiva e tantissimi filmati. Inoltre, il docente avrà video e copioni per delle meravigliose recite. Detto Fatto, il corso di religione cattolica per la scuola primaria.